In questo incontro, la biblioteca di Boretto, ho parlato del libro più bello del mondo, ma anche il libro più difficile del mondo. Non dico difficile per spaventare, in realtà è un libro che può accogliere chiunque, un libro che va abitato. Sarebbe sufficiente prendere anche solo una singola parola e farsela girare in testa come se fosse una preghiera, esplorarne tutti i possibili significati. Ho parlato del capolavoro di James Joyce, il Finnegan's Wake, un libro che lui ci ha messo 18 anni quasi a scriverlo completamente. 18 anni sono tantissimi, un lavoro faticosissimo, meraviglioso, esaltante. Ecco, 18 anni per scrivere un'opera totale che rivaleggia con la Divina Commedia, con le grandi opere della storia dell'umanità. 18 anni per scrivere un'opera così che arriva dopo, non un'opera qualsiasi, arriva dopo l'Ulisse di James Joyce. Allora, già soltanto dire queste date e far presente che questo è un libro difficilissimo, che cambia il modo in cui si legge, un libro in cui l'esperienza della lettura acquisisce una specie di quarta dimensione. Non c'è più il lettore e la pagina, ma c'è il lettore e la pagina e tutto quello che sta in mezzo, lo spazio tra la mente del lettore e la pagina, questo spazio magnetico di magia rinascimentale. Non a caso Giordano Bruno è uno dei punti di riferimento principali dell'opera di James Joyce. Quindi si tratta di un libro magico, difficilissimo e nello stesso tempo aperto a tutti e pieno di vero, grande, immenso amore per la vita.